ciao e ben ritrovati nel mio canale e in questo video voglio affrontare un altro argomento relativo al formato geopackage e vi metterò in descrizione i cinque precedenti video tutorial che ho fatto sul formato e vi faccio vedere un attimo la slide dove vedrete i video già pubblicati ecco questi sono i cinque video tutorial che ho già pubblicato quindi come utilizzare formato geopackage come creare un geopackage salvare gli stili un geopackage importazione e desportazione di layer all'interno del geopackage e come salvare il progetto completo QGIS all'interno proprio del geopackage per cui se vi interessa l'argomento se volete avere un'alternativa al classico formato shapefile vi consiglio di vedere di guardare questi video e capirete i vantaggi che si hanno nell'utilizzo del formato geopackage allora in questo sesto video andremo a vedere come gestire la simbologia in particolare attraverso il formato svg quindi di icone immagine che vogliamo collegare a una simbologia di tipo puntuale e quindi attraverso come dicevo il formato di grafica vettoriale svg che poi vi spiegherò la prima cosa andiamo ad aprire il nostro progetto che è all'interno di un geopackage e questo lo vedete come è possibile farlo nel video 5 della playlist del formato geopackage quindi andiamo su progetto faccio apri da geopackage vado a scegliermi il mio geopackage vedete che lui trova all'interno il file di progetto in questo caso analisi comune ecco io ho preparato un layer chiamato pozzi puntuale dove c'è una tabella con quattro colonne di cui poi vedremo l'utilizzo soprattutto della colonna coltura allora come avete visto io ho messo un punto arancione normalissimo quindi una simbologia proprio chiamiamola semplice all'interno come vi dicevo c'è la possibilità di utilizzare quindi il formato svg invece di simbolo semplice vedete simbolo svg lui all'interno QGIS ha già una simbologia quindi avete già dei simboli di formato grafica vettoriale allora intanto cos'è il formato svg come vi avevo detto è un formato di grafica vettoriale che ovviamente offre numerosi vantaggi rispetto ai formati raster diciamo pixelati classici come jpeg o png innanzitutto perché i file svg sono scalabili quindi possono essere ingranditi o rimpiccioliti senza perdere la qualità infine anche i file svg possono essere modificabili tranquillamente anche qui col colore spessore e cose varie e uno dei anzi diciamo il programma secondo me più utile sicuramente per gestire la svg è un programma software open source open source che è in scape ecco questa è la pagina del software in scape e come vedete è possibile creare il grafico vettoriale ed è un software completamente gratuito per cui questo ve lo consiglio vivamente allora quello che voglio ottenere cos'è è innanzitutto fare una categorizzazione del layer posti sulla colonna cultura ed assegnare ad ogni tipologia in questo caso vigneto, olivi, frutteto, frumento quattro icone distinte secondo passo sarà che l'icona l'immagine svg non deve essere collegata perché altrimenti quando io passo a trasferirlo il geopackage dovrei dare anche l'icona e soprattutto nel percorso corretto invece io andrò a mettere, a incorporare anche l'svg all'interno del geopackage allora prima cosa andiamo a categorizzare il layer posti categorizzato valore scegliamo scultura lui ha dato ovviamente una simbologia casuale allora scelgo anzi facciamo così conviene fare prima fare il simbolo singolo scegliere il simbolo svg e poi fare categorizzato in maniera tale da avere già diciamo la scelta del simbolo svg quindi faccio categorizzato e lo faccio attraverso coltura ok e adesso andiamo ad assegnare ad ogni categoria, ogni valore il nostro svg che non è quello all'interno di QGIS ma vedrete che sono quattro icone che ho scaricato da un sito molto interessante che dopo vi presenterò e sono quindi in locale all'interno di una cartella quindi vado a scegliere ad esempio frumento vado nel percorso e vado a qua avevo scelto frumento si quello qua vedete frumento svg e lui si carica la iconcina andiamo a fare frutteto veloce frutteto e e l'ultimo e l'ultimo è vigneto ecco spengo un attimo gli altri layer così almeno potete vedere meglio la simbologia ingrandiamo pure i simboli diciamo scegliere lì quanti fare tasto destro ambe dimensioni diamo un buon 6 eccoli quindi avete visto che ogni tipologia tipologia di pozzi in questo caso abbiamo assegnato un svg cosa succede poi adesso che come vi dicevo prima questa iconcina questa immagine è un collegamento questo percorso che è il percorso del mio computer quindi invece per renderlo trasportabile che sia veramente che sia all'interno del geopackage togliamo questo di domanda che come si fa semplicemente si incorpora l'svg all'interno del file di progetto quindi vado a scegliere il mio simbolo svg qui vedete ci sono i tre puntini dirò incorpora file rumento ok vedete che è sparito qua il percorso difatti mi dice file incorporato stessa cosa andrò a farlo sul tetto quindi incorpora il tetto facciamo gli ultimi due faccio un po' veloce passione olivi e l'ultimo vignetto ecco in questa maniera ho il 4 svg incorporato quindi vediamo adesso cosa succede innanzitutto andrò a salvare il geopackage o meglio il progetto all'interno del geopackage quindi ho il mio layer pozzi caricato ho la mia simbologia incorporata andrò a fare progetto salva su geopackage ovviamente andrò a riscriverlo su dati comunali geopackage quindi vado a salvare e andiamo a vedere come estrarre il file svg dal geopackage quindi dal progetto all'interno del geopackage apriamo geopackage apriamo all'interno gli svg che abbiamo incorporato prima per estrarlo siamo sempre nella stessa tipologia facciamo l'esempio sul frumento simbolo svg andiamo dove ci sono i puntini vedete file incorporato andrò a scegliere estrai file incorporato metto il nome perché lui non mantiene il nome originale e originale frumento eccolo qua e lo salvo in questa cartella salvata frumento svg quindi andrò a fare poi eventualmente la stessa operazione sugli altri quindi ho incorporato prima il file svg e successivamente posso comunque estrarre il formato della mia icona quindi abbiamo un geopackage completo di tutto dei layer degli stili il progetto stesso è all'interno del geopackage e anche le icone di rappresentazione del mio layer puntuale è all'interno del file geopackage quindi un file unico ho completamente tutto il progetto e sicuramente questo è un aspetto che si somma a quello che abbiamo visto negli altri video che ci fanno ormai scegliere questo geopackage questo formato rispetto al formato comunque sempre valido dello shapefile come ultima cosa vi avevo promesso di farvi vedere quel sito io lo chiamo il sito definitivo SVG dove ho scaricato queste icone eccolo qui eccolo svg repo punto com qui avete più di 500 100.000 icone e libere graduite svg potete fare la ricerca attraverso categoria attraverso nome car voglio una un'auto sceglie vedete 577 ecco poi potete entrare dentro al onicuncina scaricare direttamente l'svg o il png comunque e fare anche la modifica vedete è diretto e fate tutte le modifiche che volete per cui io ripeto questo sito qua è veramente veramente utile perché troverete tutte le icone di cui avete bisogno bene chiudo questo video come sempre spero che sia stato di vostro gradimento e vi aspetto prossimamente sempre nel mio canale ciao ciao